Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Monreale, nel Palermitano, dove quattro persone sono state denunciate dai carabinieri, sono i componenti di una banda che era dedita al furto di auto e pezzi di ricambio. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alle procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i minorenni di Palermo, quattro palermitani, di cui due minori, sospettati di essere gli autori di una serie di furti di automobili commessi tra settembre e ottobre di quest'anno a Monreale e Partinico. Gli indagati, che avrebbero commesso diversi furti di autovetture e di parti meccaniche, sono stati identificati dai militari dell'arma anche attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi dove le autovetture erano state parcheggiate. I modelli di auto maggiormente presi di mira sono stati le Fiat 500 e le Smart. Gli autori erano soliti entrare in azione di notte, approfittando dell'assenza di possibili testimoni. Solo in un'occasione, uno dei proprietari, accortosi del tentativo di furto della sua auto, è riuscito a mettere in fuga i ladri. A Niscemi la polizia ha scoperto e sequestrato ben 140 kg di marijuana all'interno di uno stabile nel centro storico. E' stato arrestato il responsabile, si tratta, di un anziano, una 76enne. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi e della squadra mobile, nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato una coltivazione indoor nel pieno centro cittadino di Niscemi. L'equipaggio di una volante del locale commissariato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha avvertito un forte odore di marijuana provenire da una specifica zona della città. Per affinare le ricerche è stato richiesto l'intervento dei poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile di Caltanissetta. Per questi ultimi non è stato difficile individuare il luogo da dove proveniva l'odore. L'attività di appostamento dei poliziotti ha infatti permesso di notare un anziano che, dopo essersi guardato intorno con fare circospetto, ha fatto ingresso all'interno di uno stabile del centro storico. L'anziano è stato colto in flagranza mentre curava le piante di marijuana mediante un impianto per la coltivazione che denota una spiccata professionalità. Il sistema di coltivazione era dotato di un impianto di irrigazione, illuminazione, areazione e ventilazione altamente professionale. L'illuminazione artificiale, fondamentale per la crescita delle piante, era assicurata da fari molto potenti con elevato assorbimento di energia elettrica. I tecnici dell'Enel, intervenuti presso l'immobile, hanno accertato la manomissione dell'impianto di distribuzione, stimando un prelevamento furtivo della rete di circa 10.000 euro mensili. Per questi motivi all'anziano verrà contestato anche il furto di energia elettrica. Parliamo di pirateria audiovisiva. La Polizia ha scoperto una vera e propria associazione criminale. Sono 21 le persone indagate, tra queste anche in Sicilia. Ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito una vasta operazione contro la pirateria audiovisiva con perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 21 persone. Diversi centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale sono stati impegnati in numerose perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale nei confronti degli appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale. Le indagini, dirette dalla Procura Distrettuale, avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania con il diretto coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma, hanno permesso di delineare l'esistenza di un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli distinti e ben precisi e con promotori distribuiti sul territorio nazionale e all'estero, avente come finalità la costante distribuzione a un elevatissimo numero di utenti in ambito nazionale e internazionale di palincesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV illegali con profitti mensili per svariati milioni di euro. Le condotte illecite sono state consumate in un lungo arco temporale e sono state interrotte grazie all'operazione in corso. Al fine di eludere le investigazioni, gli indagati hanno fatto uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Questi ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Riscontrata la presenza su varie piattaforme social di canali, gruppi, account, forum, blog e profili che pubblicizzavano la vendita sul territorio nazionale di flussi, pannelli e abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso numerosi siti illegali di live streaming. Sono 21 le persone al momento indagate, attive nelle città di Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari, a cui la procura etnea contesta, a vario titolo, reati quali associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo a un sistema informatico, frode informatica. L'operazione, che si avvalsa dell'ausilio dei centri operativi sicurezza cibernetica di Reggio Calabria, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Roma e Bari, ha consentito di inibire il flusso illegale dell'IPTV e dei siti live streaming. Abusi sessuali su un minorenne. Con questa accusa, un docente, un professore, è stato arrestato a Messina e condotto in carcere. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP, nei confronti di un docente di un istituto scolastico superiore del capoluogo, un 35enne, accusato di atti sessuali con minorenne. L'indagine, coordinata dalla procura, era stata avviata nell'ottobre scorso, dopo la denuncia presentata dalla madre di un allievo minorenne del professore. È emerso che l'insegnante, dal gennaio di quest'anno, avrebbe commesso atti sessuali con il ragazzo in cambio di denaro e altri costosi regali, tra cui due scooter, due telefoni cellulari e una Playstation. Sulla base degli elementi raccolti, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi, il GIP ha emesso il provvedimento cautelare che i carabinieri hanno eseguito nei confronti del professore, il quale è stato trasferito nel carcere messinese di Gazzi. Spaccio di sostanze stupefacenti a Borgetto, nel Palermitano, dove un 43enne è stato beccato e arrestato dai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 43 anni incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, realizzato con il supporto del personale del XII Reggimento Sicilia di Palermo, hanno fermato il 43enne a Borgetto durante un posto di controllo mentre era a bordo della sua autovettura. Insospettiti dal forte odore proveniente dall'abitacolo, i carabinieri hanno quindi proceduto a una perquisizione che ha consentito di rinvenire, sin da subito, una piccola quantità di marijuana. Le operazioni sono state estese presso l'abitazione del soggetto, dove i militari hanno sequestrato ulteriori 300 grammi di marijuana, sostanza divisa in diversi contenitori. Su disposizione del pubblico ministero, il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l'arresto. Dal palermitano al siracusano parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri nelle aziende e soprattutto nei cantieri edili per vedere il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro. Ebbene sono state riscontrate diverse irregolarità e sono scattate ovviamente diverse denunce sia a Siracusa ma anche in provincia. Proseguono i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa in sinergia con l'arma territoriale coadiuvati dagli ispettori INL distaccati in Sicilia da questa estate presso il Dipartimento Generale del Lavoro Siciliano nei cantieri edili della città e di tutta la provincia retusea per verificare il rispetto delle normative gius lavoristiche e sull'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A finire sotto la lente di ingrandimento nell'ultimo mese sono state 16 imprese soprattutto nel delicato settore edile impegnate in cantieri avviati in maniera esponenziale in tutta Siracusa e provincia ma anche quelle del settore agricolo, produttivo e industriale a seguito di accurate verifiche e mirati accessi ispettivi presso quelle aziende anche al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro che nasce dallo stato di bisogno proveniente da alcune fasce di cittadini più deboli i carabinieri specializzati nella tutela del lavoro hanno denunciato alle competenti procure 20 tra committenti, imprenditori e professionisti ovvero i coordinatori della fase della progettazione ed esecuzione dei lavori questi ultimi ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti sono state rilevate gravi violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e sfruttamento in sede di ispezione è stata accertata anche la presenza di 6 lavoratori in nero su un totale di 33 sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 91.520 euro in 7 casi si è provveduto anche ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri operai i controlli continueranno anche nelle prossime settimane con l'approssimarsi delle festività natalizie al fine di garantire la massima osservanza delle norme a tutela del lavoro di tutti gli imprenditori onesti, dei lavoratori e di tutte le loro famiglie spaccio di stupefacenti a Marsala con un 29enne finito in manette i carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 29enne marsalese gravato da pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il soggetto sarebbe stato notato dai militari dell'arma in atteggiamento sospetto e guardingo per le vie del centro storico sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un sacchetto in plastica contenente circa 60 grammi di cocaina droga nascosta all'interno degli slip tratto in arresto a seguito dell'udienza di convalida il 29enne è stato sottoposto alle misure dell'obbligo di dimora nel comune di Marsala e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nuova sconfitta per il Catania di Lucarelli parliamo ovviamente di calcio andiamo ad ascoltare le parole della tecnico rossazzurro dopo la vittoria della Sorrento il problema più grosso è che non facciamo gol e questo crea anche diciamo oltre a farci sembrare a volte anche più brutti di quello che in realtà siamo questo mette anche pressione a difensori a portieri perché sai che non puoi permetterti di sbagliare niente in questo momento anche dietro se vuoi andare a vedere la partita anche di oggi quanti tiri ha fatto il Sorrento così come il Messina solo che ci sono squadre davanti a noi in classifica che queste partite le vincono e sono giustamente lì davanti in classifica te ogni volta le perdi nonostante hai anche prodotto qualcosa perché per esempio primo tempo Castellini da due metri dentro l'arietta piccola sul colpo di testa e anche Rocca dall'ultimo e tutta un'altra serie di situazioni che ci sono state e noi ovviamente questo è un problema che è difficile anche nasconderlo perché l'essenza del calcio è fare gol e non subirlo e noi purtroppo in questo momento si fa fatica a farlo oggi non ho interesse di andare a demotivare o a fare delle puntualizzazioni dico solo come ho chiesto a ragazzi che dobbiamo andare a cercare di riscattare questa partita perché è normale così perché lo ha fatto anche il Sorrento il Sorrento domenica ha perso in casa oggi è venuto a vincere a Catania quando si perde in casa ci deve girare i coglioni in maniera forte da non salutare nemmeno nessuno a casa e non parlare con nessuno per quattro giorni perché a me succedeva così perché quando si fa una partita si entra in campo per me è sempre stata e sarà una guerra sportiva da dover battere e da dover schiacciare l'avversario sempre col massimo rispetto ma non posso vedere il calcio in maniera diversa dal mio punto di vista perché se no farei prima a ritirarmi ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia a dopo di Spazio Notizia